We trust you will be a great asset to the company Great, great asset to the company Great, great, great asset to the company Okay, ascoltate, questo è l'ultimo giorno per la nostra quota Quindi basta con il cazzeggio Io resterò sulla nave e guiderò voi tutti verso i rottami Mi hai spaventato Lo ricevo molti clienti Benvenuti nel mio negozio Tutto quello che un barbone può desiderare Della soda, una buffa trombetta Ah già, il corpo del tuo amico Aspetta un momento vero, proprio dietro di me Vabbè, allora prenderò il corpo del mio amico Ehi ragazzi, come procede lì dentro? Non vedo molto movimento Fortunatamente abbiamo Teddy in panchina Come va Teddy? Ok, va tutto bene Magari il capo sarà un po' comprensivo Andiamo? Ma è rotto Ciao! 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 Grazie a tutti.